Ultimo caffettino weekend dell'anno, tutte le news di questa settimana sul mondo tech. Buongiorno e bentornati al caffettino podcast, sono Mario Moroni e qui anche oggi, anche in quest'ultimo giorno dell'anno, e l'ultimo tra l'altro poi in fondo alla puntata, magari facciamo un 3-2-1 finale, parliamo di tech e facciamo il riassunto di tutte le news interessanti di questa settimana. Prima di cominciare con l'ultimo riepilogone, con l'ultima puntata, la 1226 di quest'anno, ti ricordo che se ti sei trovato bene con questo podcast puoi mettere 5 stelle su Spotify, per me è molto importante, quanto è importante mettere una recensione su Apple Podcast e condividere le puntate con i tuoi amici e sui tuoi social, taggandomi sempre così ti ricondividerò. Se ti va, chiaramente c'è anche il canale Telegram, Mario Moroni Canale, per non perdere nessuna puntata e nessuna notifica. Ma adesso partiamo, ci sono tante news di cui chiacchierare. Elon Musk e le sue provocazioni, dobbiamo smettere di ascoltare le sue provocazioni, assolutamente. Non soltanto per capire al meglio il mondo tech, ma anche per cominciare a dargli meno peso l'argomento della puntata lunedì, dopo l'ennesima. Mi dimetto ma non dimetto da amministratore delegato di Twitter. Cambiamenti in arrivo per gli affitti brevi, obbligatorio da gennaio 2023, quindi da domani mattina, inviare i dati al fisco, codici fiscali, insomma tanta roba sia su Airbnb che sulle altre community. C'è un bel terremoto, arriva la stretta, probabilmente arriva anche la voglia di raccogliere tributi da parte dello Stato. Quindi attenzione, puntata di mercoledì in cui lancio questa mia previsione. Il 2023 sarà l'anno del podcast o dell'intelligenza artificiale. Grande quesito, avendo visto tutte le baccheche di tutti i social amici, collegamenti, colleghi, parlare quasi esclusivamente di intelligenza artificiale. Ma forse mi conviene fare un podcast sull'intelligenza artificiale? Ragioniamoci. Giovedì abbiamo parlato di Netflix perché appunto in questi giorni stanno arrivando e sono arrivati i contenuti fitness di Nike e non soltanto per allenarsi a casa. Ragioniamo in questa puntata se Netflix si sta allargando nei contenuti per allargare la platea o si sta giocando altre tipologie di, diciamo così, chance come gaming e come altro per raccimolare utenti e sopravvivere a un inverno che potrebbe risultare fatale. Intanto mettiamo giù qualche chilo con il fitness su Netflix, forse. Finiamo la settimana con la puntata di ieri, le parole più ricercate su Google nel 2022. È stato un anno pazzesco, ricco di personaggi, ricco anche di accadimenti importanti, guerre e il continuo della pandemia. Quindi la classifica delle parole più ricercate è molto interessante anche, come dicono nella puntata, per studiare un nuovo business e per capire se e come è necessario portarlo avanti con le parole più ricercate. Questa è l'ultima puntata del Caffettino Podcast del 2022. È stato un anno veramente pazzesco. 330 puntate, più o meno giù di lì in questo 2022, che spero di portare a 365 l'anno prossimo. Perché, insomma, da un po' di tempo ho cominciato a fare 7 puntate su 7, ma al di là di questo sono molto contento di quest'anno. Sono contento del seguito delle persone, della qualità dei vostri messaggi, dei vostri commenti, delle mail a mariochiocciola, mariomorroni.it, in cui mi raccontate le vostre storie da professionisti, da imprenditori o da studenti. Sono molto contento di essere arrivato fino a qui. E non vi preoccupate, sono carico a pallettoni, come si diceva una volta, per affrontare l'anno prossimo e continuare a commentarlo, spero bene, sicuramente con tanto impegno, alla mia maniera, cercando di criticare, di leggere, di scoprire, di innovare, e di raccontarci il bello del mondo tech per il prossimo futuro. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast. Divertitevi questa sera quando ci sarai le 3, 2, 1, pensate anche un po' a me. Ma sì, dai, così, così, dedicatemi un brindisi, non il primo, eh. Perché no? Ci serve un po' di fortuna, di fato anche. Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani, l'anno prossimo, sempre qui, 365 puntate l'anno. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast.